di una lavoratrice. Si potrebbe arrivare alla proroga della moratoria per i prestiti a giugno. C'è l'allarme delle imprese. Si va verso la proroga dei prestiti garantiti dallo Stato. Scaduti lo scorso 31 dicembre per evitare la procedura di infrazione da parte dell'Europa. Le imprese sono al collasso a causa del perdurare della pandemia e il Governo studia l'inserimento della misura nel decreto mille proroghe oppure in quello sostegni. Il volume dei crediti in questione si aggira intorno ai 200 miliardi. Mercoledì sono previsti una serie di incontri al Ministero dell'Economia per mettere a punto il provvedimento anche dopo il pressing dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana e delle associazioni imprenditoriali da Confindustria alle organizzazioni degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Tutti chiedono a gran voce al Governo di intervenire al più presto. Con nuovi aiuti invece si darebbe una spinta importante alla ripresa economica. Servono quindi interventi per dare respiro e sostegno alle famiglie colpite da due anni durissimi di Covid. L'emergenza maggiore riguarda la liquidità. Sarebbero 700 mila, secondo uno studio di un'impresa, le aziende che a inizio 2022 potrebbero andare in default, proprio per il rischio insolvenza e per il venire meno dei prestiti garantiti dallo Stato. Un crack che potrebbe costare oltre 27 miliardi. Per questo, concordano banche e imprese, serve che il Governo non chiuda i rubinetti, ma continui a mettere in campo i fondi necessari per consentire alle aziende più colpite dalla crisi di continuare a svolgere le loro attività, evitando chiusure e ricadute occupazionali.